Ragazzi mettetevi seduti perché vi sto per far vedere delle immagini forti Delle immagini che vi cambieranno purtroppo in negativo la giornata E si ragazzi ve le devo far vedere perché è arrivato il momento di farvele vedere Andiamo Eccolo qua, è uno scandalo È uno scandalo, è uno scandalo Come fa SQL ad aver citato 11 punti Come fa, come fa la patatonia ad aver citato 9 punti È un'ingiustizia ragazzi È un'ingiustizia È un'ingiustizia Facciamo qualcosa Fate delle macumbe a queste squadre Voi direte ma perché l'ingiustizia Direte innanzitutto sì, qualfer calcio pazzo sicuramente da organizzatori Avranno manomesso qualcosa, non lo so Qualcosa stanno facendo sicuramente La mano lunga della mafia di Youtube Probabilmente si sta muovendo anche sul fantacalcio degli Youtubers Andiamo a zoomare Voi direte va bene sì, qualfer primo in classifica Segnalo 26 gol, 13 gol subiti ci può stare Essendo il miglior attacco Difficilmente riesce ad essere la peggior difesa Ma guardate la patatonia 11 gol subiti Ma quanto sono fortunati questi ragazzi Quanto sono fortunati Va bene se Ex-Symbols ci posso stare Hanno fatto delle scommesse Sono stati fortunati Manzoti mi ha preso tutto l'attacco dell'Inter Ci può stare Ma noi ragazzi Veramente guardate con un meno 4 Differenza reti Non ce lo meritiamo ragazzi Non ce lo meritiamo Mi dispiace dirlo Non ce lo meritiamo Non ci meritiamo questo posto in classifica Dovremo scalarla Sarà molto complicato Siamo ad 11 punti dal primo posto Ma noi siamo dei sognatori E non molliamo Per i nostri tifosi Vi faccio vedere anche lo scandalo Della domenica scorsa Perché poi uno dice Ma è possibile che ti lamenti Anche quando vinci 2-0 Allora abbiamo vinto 2-0 Con i Winnie the Boom Un saluto a Luca Mastrangio E al gladiatore giallorosso Che ci hanno dato comunque tante gioie quest'anno Quindi grazie Grazie mille È la seconda gioia quest'anno Pellegrini Assis Klaivert ha segnato Che cosa succede Klaivert lo metto Dico Gli dico proprio a Papirus Mettiamo per Edu Perché attenzione è rigorista C'è un rigore Che cosa è successo Però Klaivert è nostro Si è infortunato Due secondi prima Per fare entrare Perotti Che è diventato rigorista Quindi anche qui Secondo me Qualche Michael Jusikov Ha provato a farlo Insieme a Calciopazzo Poi Immobile Immobile 16 Rigorista Bene Batte il primo rigore Il secondo rigore Non lo batte Chi lo batte Chi lo batte Luisa Alberto Che ce l'hanno loro E allora ditelo Che ci state remando contro Dite che ci volete Sega alle gambe E noi ci mettiamo L'anima in pace Perché qui mi sembra Che veramente Tutti contro noi Tutti contro me E il buon Papirus Ragazzi Io vi ricordo Come al solito Sotto in descrizione C'è il link Per scaricare Fanta Master Che è un'applicazione Come a vedere Molto user friendly Che ti dà una mano A fare questi conti Del fantacalcio Certo Se giocare con Sikov E Calciopazzo Teneteli sotto occhio Comunque E a parte gli scherzi Insomma È veramente Facile da utilizzare Vi invito a scaricarla Smanettateci un pochettino E capite tutte le funzionalità Ci sono vuoti Cose Fantastico Anche le aste Potete farle direttamente Dall'applicazione Un'applicazione completa Il link È sotto In descrizione Vi ringrazio Ciao Tattico E ciao a tutti quanti Ciao Tattico